E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo ad approfondire questo weekend andremo ad approfondire dei dati fondamentali che sono usciti nelle ultime giornate e che ci fanno comprendere come si stanno muovendo i capitali più importanti insomma notizie secondo me importantissime da conoscere proprio per anche riuscire a capire cosa sta accadendo ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quindi lascio un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento trovate qua sotto insieme all'iscrizione e insieme a tutti i link che utilizziamo personalmente per andare a fare trading per andare ad utilizzare insomma i servizi principali di crypto che vi danno i migliori sconti del settore insomma è un win win se volete sostenere il canale anche voi avete delle revenue appunto legate a queste promo detto ciò non perdiamo altro tempo perché abbiamo un sacco di cose da dire e partiamo partiamo da questo grafico che in realtà vi ho preso da twitter non si vede benissimo secondo me probabilmente in video però ve lo sintetizzo io perché fanno notare una cosa abbastanza interessante cioè il fatto che sì ottobre storicamente è sempre stato appunto un mese up quindi uptober insomma ci siamo sempre giocati su questo termine e anche questo giro direi che si è confermato tale perché siamo al 30 di ottobre manca un giorno a meno che non ci siano disgrazie incredibili insomma ottobre lo chiudiamo con un più 30 per cento quasi questo grafico è aggiornato al 28 di ottobre con circa un più 26 e 6 però siamo in una zona del 30 per cento numeri che non vedevamo veramente da tantissimo tempo soprattutto in una fase di bear market da gennaio ecco gennaio è stato un più 40 quindi siamo più o meno in linea con gennaio ma con dei livelli di prezzo anche diversi che cosa si va a notare qui che in realtà non è il mese migliore ottobre ma dovrebbe essere quello di novembre anche se novembre negli ultimi due anni è chiuso con un meno 16 o meno 7 storicamente abbiamo dentro dei numeri che un po' falsano direi questa statistica perché abbiamo un incremento fortissimo nel 2013 nel sì nel 2013 che facciamo più 470 per cento venuto un più 54 nel 2017 un più 42 nel 2020 che hanno tirato su completamente la media e che la portano ad avere una media di rialzo del 35 per cento contro il 25 per cento di ottobre quindi potrebbe essere un moonvember ve l'avevo già twittato ma probabilmente se le condizioni di mercato continuano a essere tali probabilmente potrebbe darci delle buone soddisfazioni detto ciò appunto altra chart che ci fa un attimo ragionare è che i 30 mila dollari in realtà sono uno dei livelli di prezzi 32 e 30 mila dollari diciamo questa fascia qua dove pensate il prezzo è stato per più tempo all'interno di questa zona insomma di questo intervallo dalla storia di bitcoin dal 2011 solamente per tre giorni è stato sopra i 60 mila dollari quindi 65 mila dollari e poi c'è stato il secondo è appunto cioè il primo è i 32 mila con 606 giorni e poi andiamo a questo qua che sono la zona dei 16 16 e 3 dove è stato 556 giorni sopra appunto questo stiamo sui 473 giorni insomma però vedete come il prezzo in realtà tra i 32 e i 65 ci sia stato è il terzo o il quarto ecco quasi a pari merito quinto zona dove è stato stato per più tempo ma ce ne sono tante altre che hanno stato per parecchio come ad esempio anche i 256 dollari interessante da 256 e 512 probabilmente proprio nei early early 2015 secondo me 2016 erano quelle zone lì interessante così come interessante che questa sera torna un po' a bull market vibes perché da una vita che non facciamo più una live ma credo che sia interessante perché spesso me la chiedete spesso vi fa piacere e penso sia una cosa molto più utile rispetto anche a un video proprio per potervi poter interagire con voi avete delle domande o altro poter risponderci quindi è molto molto carina secondo me come iniziativa ebbene io ve l'avevo un po' twittata qua per fare una reaction una live reaction a quelle che sono le principali normative che sono uscite con la circolare del 27 di ottobre dell'agenzia di entrate su tutte le tasse in italia ho detto facciamo una reaction live sì ok l'abbiamo spostata questa sera alle ore 20 e 45 la trovate qui sotto vi lascio magari il link ma trovate sul canale qua facciamo una reaction live quindi tutte le vostre domande vi verranno risposte anche su quello che farò io eccetera eccetera insomma quindi penso una bella occasione vi aspetto questa sera 20 e 45 qua live su youtube bene e ora arriviamo al piatto forte perché ora vi farò vedere una carrellata di tweet passando dal 28 di ottobre al 30 con stablecoin che vengono trasferite a exchange centralizzati allora 104 milioni di dollari trasferiti a binance 58 milioni trasferiti a binance sempre il 28 alle 4 e 22 ore dopo altri 58 milioni di dollari trasferiti a binance sto rotolando per difetto 87 milioni di usdt trasferiti a coinbase 59 milioni di usdt trasferiti a binance sempre il 28 poi abbiamo 520 milioni di dollari trasferiti a binance ok il 28 abbiamo altri 251 milioni di dollari di usdt trasferiti a binance sempre il 28 e fresca fresca delle 6 25 di mattina abbiamo 91 milioni 92 quasi di dollari di usdt trasferiti a binance ora su questo voglio fare una seconda ragionare con voi secondo voi a cosa servono questi fondi? ora io non voglio fare sempre il solito moon boy to the moon eccetera non mi interessa farlo però vi ho sempre ragionare che i soldi grossi grazie alla blockchain spesso sono abbastanza evidenti e stanno spostando davvero fondi importantissimi in stablecoin verso gli exchange e verso soprattutto binance quindi in qualche modo probabilmente questi fondi o saranno margine per andare a shortare ma ho i miei dubbi che ne serva così tanto oppure stanno andando a fare degli acquisti importanti probabilmente non lo sappiamo non possiamo avere la sfera di cristallo non posso dire con certezza però ricordatevi sempre che la difficoltà che si ha nel trading e nelle cose è cercare di analizzare le situazioni reali quello che è dato tangibile ok perché sento spesso adesso non voglio allungarmi perché sarebbe veramente lunga ma sento spesso ah ma la crisi ah ma la questioni internazionali ah ma il peggio del peggio della macroeconomia si è vero tutto vero ragazzi vi ricordo che in 2020 abbiamo fatto una burran da paura che era il peggio del peggio ok chi c'era nel 2020 sa benissimo che era il peggio del peggio si crescerà andremo a zero finito il mondo ok benissimo burran epica quindi non passate mi raccomando quegli idee lì perché se non riuscite a trasformare le vostre idee da bullish a bearish da bearish a bullish di fronte a certe situazioni che non significa per forza sposare una tesi e andare avanti per quella per sempre ci rimettete voi ok ci rimettete voi poi nella vostra operatività quindi dovete essere immanneabili in base a quello che vedete qui stiamo vedendo un miliardo di dollari spostati verso gli exchange in stablecoin a voi pensare cosa servono o cosa no detto ciò passiamo ve lo lascio a voi come compito a casa passiamo ai gainers delle 24 ore troviamo alcuni del coin che stanno performando molto bene tra cui Axie Infinity che fa un più 17% più 30 settimanale Galon più 12 BitTorrent un più 10 CP1 più 6 Decentraland più 6 Decentbox più 6 Tutto un po' al metaverso ragazzi un po' svegliato Conflux più 4 Algorand più 4 Mina più 4 insomma e via discorrendo abbiamo veramente tante tra i losers nulla di particolare Maker che fa meno 3 Stax un meno 3 Bitcoin SV meno 3 Frackshare un meno 1 niente di che ragazzi niente di che proprio perché Bitcoin sta tenendo molto bene a mio parere questa zona qua ed è molto molto interessante ve l'ho anche tweetato vi ho detto a mio parere non mi meraviglierei se potesse continuare in questa settimana stiamo attaccando in maniera abbastanza aggressiva questa zona di 34,7 35 mila dollari e il prezzo sta comunque formando una sorta di eye lo vedete cioè sta tenendo questa questa sorta di trend line piccolina ma è solo un indicativo solo per darvi un'idea la possiamo anche tenere giusto per per qualità visiva ecco ed è importante che cosa anche il fatto che andando a lateralizzare che era quello che io mi auspicavo era il fatto di poter recuperare la media 12 che ora è arrivata in zona 32 7 la media a 26 che ora è in 30 mila e 8 e che comunque possono tornare su a darci supporto e creare un po' di struttura qua sopra anche a livello orario anche se i volumi nel weekend chiaramente sono quello che sono lo vedete come il prezzo proprio stia cercando di stabilizzarsi e cercare di ricaricare un po' il momentum un momentum che comunque vi ricordo è estremamente positivo estremamente positivo anche sulla dominance in realtà che vedete essere veramente molto molto carica la dominance insomma a mio parere con un bitcoin così forte ragazzi va solo che bene solo che bene perché poi questa roba qua appena va un attimo a collassare e distribuire vedete i numeroni su tanta alcoin anche di alta capitalizzazione che è interessante a livello di open interest abbiamo avuto però una cosa da segnalare un incremento abbastanza forte dell'open interest nelle ultime ore perché parliamo del 29 quindi da ieri di domenica che ci ha portato fino a questa zona qua ora sì siamo un po' scesi di fronte a questo piccolo ritorno in questa zona di 34,3 34,2 dai 34,6 però è un segnale comunque abbastanza forte stanno comunque andando a posizionarsi ad aumentare le proprie dotazioni i propri posizionamenti sui contratti short e long quindi attenzione non mi meraviglierei l'ho già ripetuto molta volatilità e soprattutto un potenziale di attacco non sono così i trading finanziari tutto può accadere noi parliamo di probabilità ok il trading tutto quanto è probabilità non è altro però appunto dobbiamo cercare l'avere dalla nostra quindi sicuramente il prezzo sta dimostrando una buona una buona tenuta soprattutto ripeto non mi meraviglierei anche in qualche piccolo shake proprio per andare a liquidare qualche posizione fuori però tenete sempre i vostri riferimenti sulle medie mobili a mio parere e su quelle che sono poi le strutture che si vanno a creare detto questo non aggiungerei altro vi ricordo ci vediamo questa sera insomma alle 20.45 per commentare assieme tutta la circolare proprio circolare alla mano ok andiamo a vederla fuori assieme rispondiamo alle domande e basta vi auguro una splendida giornata fatemi sapere cosa mi pensate sotto nei commenti vi ricordo di dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione con le principali promo eccetera eccetera noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti